qui presente Deastis Claudia, e lei signora Deastis Claudia, intende prendere il marito il qui presente Boniaini Mario? In seguito alla risposta affermativa di entrambi, io Giacomo Vassi, ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gimignano, alla presenza dei testimoni che hanno pubito, dichiaro in nome della legge che siete uniti in Maldemonte.